Oggi ho parlato sia con Marco Pedroni che è il Presidente di Coppa Italia e con Adriano Turrini che è il Presidente di Coppa Alleanza 3.0, li ringrazio per aver risposto alle richieste che io ho formulato anche naturalmente e soprattutto a nome dei cittadini della mia regione, riconoscendo naturalmente tutto quello che ha fatto Coppa e che continua a fare in questi giorni al di là della questione che riguarda la spesa a casa, ma anche per le azioni di sostegno anche economico rispetto a tutto quello che serviva in Emilia Romagna, tra l'altro ho avviato anche con loro un ragionamento che riguarda proprio l'attivazione di canali che riguarda l'approvvigionamento di presidi di protezione individuale, di cui ringrazio ancora il Presidente Pedroni e poi abbiamo scambiato alcune impressioni rispetto ai temi che riguardano le possibilità di spesa innovativa, in particolare ci siamo soffermati a parlare della possibilità di attivare un canale, come chiamiamo noi, di drive-thru, che oggi è reso difficile dal fatto che ci sono questioni di sicurezza che naturalmente vanno superate, ma insomma mi è sembrata un colloquio positivo nel quale ci siamo presi reciprocamente degli impegni anche nella prospettiva, nella prospettiva come abbiamo detto tante volte non sarà mai più niente come prima, questo significherà ovviamente anche immaginare delle forme differenti rispetto all'approvvigionamento di beni di largo consumo e entrambi auspichiamo che la riapertura progressiva delle attività produttive possa consentire anche nei supermercati di acquistare anche quello che oggi non è possibile acquistare, perché poi comunque la gente si muove in ogni caso, quindi se ho bisogno di un quaderno non sarebbe una cosa negativa se tutti lo potessero comprare dove vogliono, ma anche però nei supermercati sono già lì ed eviteremmo giri ulteriori oppure che si possano riaprire rapidamente le attività commerciali di piccole dimensioni, questo potrebbe essere uno degli elementi che il governo può prendere in considerazione relativamente alla progressiva riapertura nel mondo della produzione e del commercio e quindi ci avremo, avremo nelle prossime giornate anche aggiornamenti progressivi rispetto a quello che sta studiando Coop per andare nella direzione di essere come sempre vicina ai suoi soci e ai suoi cittadini, è ovvio che se ho dei ritorni, se avessi dei ritorni anche dalle altre centrali commerciali naturalmente ve ne darò conto, intanto bene questa cosa che vi ho raccontato. Abbiamo anche una...